Sono Paola Salvi e sono insegnante di tedesco al liceo linguistico di Cassiano Fiorentino. Negli ultimi tre anni ho fatto anche attività di potenziamento nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera e nel sostegno. Dal 7 al 13 ottobre del 2018 sono stata, insieme ad altri dieci colleghi toscani, presso il Marine Gymnasium a Boccol. A Boccol siamo stati inseriti a gruppi di tre o quattro nelle classi e abbiamo osservato l'insegnamento dei colleghi e a volte siamo stati anche coinvolti. L'esperienza è stata molto interessante. Le cose che posso menzionare in particolare sono state la valutazione fatta all'interno della lezione con osservazioni singole che l'insegnante annotava in un piccolo quaderno che veniva tradotta poi alla fine del mese in un vuoto. e l'insegnamento della storia non solo tedesca ma europea che dalla nonna classe, cioè dalla seconda a superiore, avveniva in inglese. In alcune classi sono stati anche inseriti dei ragazzi con svantaggio culturale o linguistico e però in questo lavoro ancora sono solo all'inizio. Grazie a tutti.